Il mondo è totalmente tecnico giuridico e di qualificazione, concordiamo con il Ministero che si tratta di un aduogamento tecnico funzionale, non una variante al piano regolatore, ammesso che qualcuno sia interessato a tutto questo. Ci siamo detti con il Ministro Pichetto che farà la via lente più coerente con questo tipo di attività, che sia il Ministero o la Regione poco cambia, che c'è la necessità di andare veloce, spedito e in grande sicurezza ovviamente perché quei depositi oggi stanno in un'area dove sono stati colpevolmente lasciati per decenni in zona che certamente non si confà a quel tipo di lavorazioni, tutto il resto si tratta di un percorso tecnico che potrà durare un mese in più o un mese in meno, l'importante è che sia accurato, sicuro e tranquillizzante per tutti i cittadini della Regione.